Smentire una notizia già nota a tutti gli addetti ai lavori, salvo poi confermarla appena un'ora dopo con un post sulla pagina Facebook della squadra. Quanto successo con il gelacalcio e il ripescaggio in eccellenza e la visione plastica di come ad oggi, a tutti i livelli, si pensi ai giornalisti semplicemente come passacarte, amplificatori e critici di veline o di comunicati stampa. Succede perciò che chi invece fa il proprio mestiere come andrebbe fatto viene visto come un problema, un disturbo da mettere a tacere, una voce fuori dal coro da smentire perché non ufficiale. Ma facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire quanto accaduto. Alle 11 di ieri il quotidiano di Gela lancia sul sito l'ammissione del gelacalcio in eccellenza. Non c'è ancora la comunicazione ufficiale della Lega Nazionale di Lettanti Sicilia, ma i giochi sono fatti da tempo senza ombra di dubbio, come confermato anche dalle fonti ufficiali contattate dalla redazione. Una bella notizia insomma che a giudicare anche dai commenti all'articolo scatena la gioia dei tifosi che da anni aspettavano il ritorno dei biancazzurri nel calcio che conta. Di lì a poco ci si aspettava anche la conferma ufficiale della società, che invece, anziché gioire assieme ai propri tifosi, pubblica sulle proprie pagine social una smentita della notizia, arrivando addirittura a dissociarsi dalla testata che l'aveva pubblicata. Un corto circuito della comunicazione, amplificato dalla conferma ufficiale del ripescaggio arrivata dalla Lega e dal successivo post della società, che esulta come se fino a poco prima non fosse successo nulla. Una comunicazione bipolare che ha scatenato l'indignazione di diversi addetti ai lavori e di tanti giornalisti sportivi che hanno espresso solidarietà alla testata gelese, rea semplicemente di aver fatto il proprio lavoro. Smentite una notizia che non esiste nemmeno come danno, nemmeno con disagio. Questa situazione dell'ufficio di comunicazione hanno due passaggi. Uno, la persona che fa comunicazione non è paiata, la persona che fa comunicazione è la stessa capaia di aiutatore. E quindi se si dia, perché magari ha una contraddizione con i giornali gelesi, ok, voi dovete essere contenti che qualcuno parla di voi. Cioè, smentite una notizia, io ne ho parlato da due mesi di ripascaggio del Gela, allora fa, ma non do pare a Uca. È triste ammetterlo, ma quanto successo con il gelacalcio rappresenta di fatto la misura dei rapporti con l'informazione in città, in tutti i campi, dalla politica allo sport. Succede così che se si denunciano cose che non funzionano, disservizi o disagi, per l'amministratore o il politico di turno, il giornalista si trasforma immediatamente in avversario politico. Se chi scrive di giudiziaria, racconta, atti alla mano, di condanne passate in giudicato, deve anche aspettarsi una querela dal condannato, semplicemente per aver scritto la verità. Una deriva mediatica spesso giustificata dal fatto che bisogna provare a fare squadra, perché dobbiamo lanciare messaggi positivi, perché bisogna parlare solo di cose belle. Rimane da chiedersi allora se anche le buone notizie adesso vengono smentite perché disturbano. Che senso ha continuare a fare i giornalisti? Un unico senso probabilmente, la libertà di raccontare la verità senza condizionamenti, un privilegio che ancora pochi possono mantenere e per cui vale ancora la pena di lottare, almeno finché sarà possibile.